Buonasera a tutti, ancora una notizia importante. Modello Isee, novità per il calcolo della situazione patrimoniale per il 2024 e come può aumentare anche l'importo dell'assegno unico. La legge di bilancio 2024 al momento è tra le carte del Parlamento e proprio in questi giorni verrà discussa. La norma inserisce un importante cambiamento per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, tra virgolette Isee. Dal 2024 infatti i titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato fino a 50 mila euro non verranno più valutati nell'assetto patrimoniale. Questo cambiamento costerà circa 44 milioni di euro all'anno allo Stato che avrà conseguenze rilevanti in particolare per i nuclei familiari che dispongono di patrimoni elevati. un elemento da tenere a mente è che rischia di portare un aumento della somma relativa all'assegno unico. Quest'ultima rappresentata, quest'ultima rappresenta una misura a sostegno delle famiglie con i figli a carico che si lega alla certificazione Isee. Una guida per capire come cambia il calcolo Isee. In passato per determinare il calcolo dell'Isee si tenevano conto di tutti i titoli di Stato e prodotti finanziari di raccolta del risparmio senza contare il loro valore. Con la domanda stabilita dal governo guidato dalla premier Giorgia Meloni invece questi beni verranno eliminati dal calcolo se il loro valore ovviamente non supera la soglia dei 50 mila euro. A beneficiare di questa situazione saranno soprattutto le famiglie con una capacità patrimoniale più bassa. Il cambiamento previsto ha lo scopo di trasformare l'Isee in un indicatore più dettagliato della situazione economica delle famiglie. In particolare dovrebbe evitare che i patrimoni finanziari anche di motesta entità possano influenzare in modo significativo il valore dell'indicatore. Gli effetti più importanti della nuova modifica si riverseranno sull'assegno unico. In pratica l'aumento del patrimonio fino a 50 mila euro potrebbe portare un aumento dell'importo dell'assegno per le famiglie con Isee più alto. Facciamo un esempio per capire meglio. Una famiglia con Isee di 30 mila euro e un patrimonio di 40 mila euro che ad oggi riceve un assegno di 200 euro al mese potrebbe godere di un assegno fino a 220 euro al mese. È stato calcolato che l'esclusione dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio dal calcolo dell'Isee potrebbe portare un aumento all'assegno unico di circa 50 euro al mese per le famiglie con Isee dai 30 ai 40 mila euro.